www.feyyaz.tv Adesso andrò a parlare con il poliziotto. Se vuoi dormire qui, puoi dormire. Se vuoi non vuoi, puoi restare qui. Entendete? Se vuoi dormire qui, tu scendi e vieni da me. Tu non vuoi restare qui. Hai capito? Hai capito? Hai capito? Buonasera, dottore. Buonasera, come andiamo? Bene, grazie. Questa è la documentazione della bambina. Vuoi legare la per cancello? Sì. Aspetti un attimo, scusi. Aspetti un attimo. La bambina ha ancora un pochino di febbre, allora me la tengo una notte ancora in ambulatorio e domani magari la porto. Però la documentazione la porto. Come vuoi, una buona serata. Buona serata, grazie. Buon lavoro, eh. Ci rendiamo a casa. Eh? Sei contento?